Ultimo confronto internazionale dell'anno contro la Cecoslovacchia ed è un altro pareggio. Gol del mediano Masopusta al 27esimo del primo tempo che fa registrare la prevalenza degli ospiti. Rete di Galli al 37esimo della ripresa caratterizzata da una nostra vigorosa pressione con precedente palo di Galli e una traversa colpita da boni perti. Finalmente il pubblico può applaudire soddisfatto i suoi beniamini.